I spettacoli, all'Arena BCC, è tutta l'estate che l'Arena BCC com'è? Pulula, 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 pulula. E ancora non è finita perché noi vi aspettiamo venerdì 23 agosto con l'ultimo spettacolo, l'ultimo Tanga Tonga. Tutti in vacanza e non potete mancare. Sabato il giorno dopo, il 24, un'altra proiezione del nostro film, non aprite quella sporta. Allora sai cosa faccio io? Adesso non butto via più niente. Non butto via più niente, mangio tutto, vedi? Ad esempio ho sbucciato le patate, le bucce, le mangio. Ma signora, ma che fa? La patata, la buccia. Chi è stato? Osama Bin Laden. Non è morto perché? E tu sei stata al suo funerale? No, io personalmente non sono stata. Ma vedi? Arturo! Arturo! Ti voglio, Arturo! Esaurita, dai, vai, gira là. Va a fare un burracchino, ti rilascia uguale. A canapriscola. E poi gran finale il 7 settembre con Somari di battaglia. Certo, datemi la mano. No, sì, la mano. E fate la pace adesso. Assolutamente. Facciamoci dire che cosa è successo. Qu'ha fatto, ho sentito un chioppo, qu'ha fatto? Niente, niente. La testa ci vuoi chiopata? Ha fatto un gestaccio, l'ho sentita? Quello è il chioppo che fa con noi. E quel, l'ho sentito. No, è perdita e tornava indietro a tutti. Ma si può sapere che cosa è successo? Tra di triggi, ipocrita. Non puoi sapere niente, guarda, non dì niente. Ma non possiamo andare avanti così? Dai, raccontalo a te. No, 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 non dì niente. La racconti lei? Niente allora in pratica. Non ci ha provato niente, eh? Jeff, scusa, ma a questi spettacoli, a questo film, possono venire tutti o solo quelli che l'hanno già visto, con le mogli, i figli, i parenti e anche tutti gli stranieri che sono tutti qui in vacanza a Fano e a Pesaro e in tutte le Marche? L'arena BCC è grande, c'è posto per tutti, potete venire e prendere i biglietti anche la sera stessa. Cosa dici? Capisce? Non avevo capito. Non si capisce quello che dici. Vi aspettiamo venerdì 23 agosto, ultimo Tanga Tonga e poi sabato il film e poi a settembre e il sito sancostanzoshow.com, lì tutte date, appuntamenti, orari. E tutti i nostri eventi. Dai, 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 dai. Però te l'ho detto, non si capisce quello che dici. Te, qua, io, parlo io. Perché parli a te? Parlo io, te l'ho detto. Capito? Ma allora?